Easy Wine Con l'innovativa tecnologia Easy Wine è possibile far degustare diversi tipi di vino senza obbligare il vostro cliente ad acquistare l'intera bottiglia. L'esclusivo sistema di aggancio è adattabile a varie tipologie di bottiglie di vari formati. Qualità costante nel tempo. Grazie al metodo di saturazione ad azoto, il vino una volta aperto è protetto da qualsiasi manipolazione e mantiene inalterate le proprietà organolettiche fino ad un mese dall'apertura della bottiglia. Erogazione semplice con un click Tre dosi controllate senza più sprechi o sovradosaggi assicurano la massima redditività di ogni bottiglia. Sistema di defrost automatico ed autopulizia delle parti eroganti per garantire un'igiene massima. La missione dei dispensers Easy Wine è di coinvolgere i vostri clienti in un percorso esaltante e senza limiti alla scoperta dei grandi vini. La missione dei dispensers Easy Wine è di coinvolgere i vostri clienti in un percorso esaltante e senza limiti alla scoperta delle parti eroganti ai vostri clienti in un percorso esaltante e senza limiti alla scoperta delle parti eroganti ai vostri clienti in un percorso esaltante. La missione dei dispensers Easy Wine è di coinvolgere i vostri clienti in un percorso esaltante e senza limiti alla scoperta delle parti eroganti ai vostri clienti in un percorso esaltante e senza limiti alla scoperta delle parti eroganti ai vostri clienti in un percorso esaltante. Grazie a tutti.